amici di motore online qui al mimo siamo arrivati a un altro stand elettrificato se passiamo parlando dello stand di mazza e davanti a noi c'è la nuova mazza mx30 che vedrete presto anche sulle pagine di motore online quindi io direi di cominciare a parlare di questa vettura anche se non è l'unica novità che mazza ha portato qui a milano sì grazie allora volevamo esserci volevamo essere a questa festa che è una festa attorno alla passione per l'auto e abbiamo deciso di essere qui in piazza duomo in una cornice meravigliosa con la mx30 la nuova arrivata la nostra prima elettrica sostanzialmente la chiamiamo l'auto portatrice sana di valori mazza quindi sarà qui vedo che già ci sono delle persone interessate speriamo proprio che sia una festa anche un riavvicinamento delle persone fisico alle automobili poi abbiamo deciso di partecipare alla festa offrendo anche la possibilità di effettuare dei test drive quindi siamo anche con delle postazioni in castello sforzesco dove abbiamo tutta la nostra gamma elettrificata quindi dalla mazza 2 la mazza 3 al nostro best seller al cx30 e appunto alla mx30 elettrica quindi una flotta completa di mazza al mimo per un po anche per visitare milano che così magari uno si fa un test drive e nel frattempo guarda anche questa città che a volte non è molto considerata tra le bellezze artistiche italiane in realtà sarebbe il caso che ce se ne ricordasse a tra l'altro proprio in occasione del mimo ho letto che ci sono anche delle opportunità innovative il mimo bonus di cosa si tratta si allora abbiamo deciso proprio perché questa celebrazione questa festa non fosse soltanto qui nella bellissima milano ma fosse un po in tutta italia di varare proprio in questi giorni quindi dall 8 al 14 giugno quelli che abbiamo chiamato il mimo bonus sono sostanzialmente delle campagne promozionali dei vantaggi cliente per chiunque sottoscriverà dei contratti in questi giorni con mazza avrà dei vantaggi in termini di servizi sia dal punto di vista economico ma soprattutto in termini di piso mind di serenità perché si tratta dell'estensione di garanzia cinque anni e dei primi cinque taglianti di manutenzione ordinaria quindi saranno offerti gratuitamente uno sforzo che abbiamo fatto proprio per estendere la celebrazione in ogni angolo del nostro paese che sta tornando alla normalità e finalmente è proprio il caso di dirlo grazie mille a roberto pietrantonio per essere stato qui con noi grazie a voi